Sì, nel parito precedente, come hai detto tu, c'era sempre stato un pizzico, un po' di imprecisione mia, un po' di sfortuna. Oggi è stato bravissimo Luca Valsania a servirmi quella palla, che era solo da spingere dentro. Io a farmi trovare nel posto giusto, peccato, perché il gol poteva essere un gol pesante da tre punti, invece ce ne ha consegnato solo uno. Mancuso, un palo, un gol. Insomma, una buona giornata per te dal punto di vista personale. Certo, il Pescari è andato due volte in vantaggio, un'ottima prestazione, anche determinazione. E poi il Lavellino ha guantato il pari. Due punti persi? Ma, questo è un po' difficile da stabilirlo, se sono persi o no. È un campo sicuramente difficilissimo e, come hai detto tu, credo che la squadra abbia fatto un'ottima prestazione, soprattutto dal punto di vista della voglia, ci abbiamo messo veramente l'anima in questa partita. Chiaramente potevamo portare a casa il bottino pieno, non è stato così, ripeto, perché comunque questo è un campo difficile. Però ripartiamo dalla prestazione che credo sia stata ottima. Una prestazione importante, una risposta importante dopo le due sconfitte con Parma e Carpi. E anche l'attacco oggi è tornato a farsi sentire, a farsi vedere, dopo un periodo in cui avevate avuto grande difficoltà a mettere la palla nella porta avversaria. Sì, sì, ripeto, la prestazione c'è stata soprattutto dal punto di vista della voglia, credo che la squadra veramente ha dato tutto, ha lottato su tutti i palloni. Davanti con Stefano mi sono sempre trovato bene a giocare, quindi non era una novità. Ecco, siamo riusciti magari a trovare delle vie per andare a sé. Perché la prestazione di oggi, scusami se ti interrompo, non si era vista nelle due gare con Carpi e Parma? Ma chiaramente ora ci siamo ritrovati che i punti pesano e quindi sappiamo che dobbiamo lottare su tutti i palloni. L'abbiamo fatta anche nelle partite precedenti, credo anche col Carpi il secondo tempo potevamo benissimo pareggiarla. Non è andata così e oggi invece ci abbiamo messo veramente l'anima. Potevamo portare a casa i tre punti e ce ne prendiamo uno. Non era facile affrontare fuori casa l'Avellino dopo due sconfitte interne. È il primo punto della gestione appunto di Massimo Epifani. Ma che cosa è scattato in voi? Si è scattato qualcosa già dalla gara di Carpi oppure poco prima di questa partita? Ma se è scattato qualcosa non lo so. Ripeto, noi ora sappiamo che dobbiamo fare punti pesanti. Oggi, come hai detto tu, venire qua a giocare non era facile perché l'Avellino arrivava da una sconfitta nel derby quindi voleva sicuramente rifarsi come noi. Credo nel complesso che il pareggio sia abbastanza giusto e quindi ce lo prendiamo e andiamo avanti. Leonardo, io volevo tornare un attimo sulla tua prestazione perché oggi nell'attacco a due in questo tre 5-2 ti abbiamo visto davvero in grande spolvero. Nell'attacco a tre probabilmente le tue prove non erano state così positive come quella di oggi. Ti trovi meglio con questo modulo? Ma non lo so perché in questo momento oggi sì sicuramente è andata bene così a due ma io ho sempre giocato in un attacco a tre quindi non credo sia la posizione. Chiaramente giocando così a due riesco a svariare ovviamente su tutto il fronte d'attacco e questo mi piace molto. Senti Mancuso, non è il tuo primo gol in maglia bianca azzurra però visto il momento particolare c'è una dedica? No, 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 non ho una dedica particolare. Era un gol che ci tenevo perché poteva portarci, ripeto, dei tre punti che erano tre punti veramente importanti per noi. Non è andata così però sono comunque contento del mio gol. Non è arrivata la vittoria ma questa prova, questo Pescara può fare risultato domenica con l'Empoli, sei d'accordo? Si può fare risultato con tutti, l'importante è metterci appunto la voglia di fare risultato e secondo me possiamo giocarcela anche con l'Empoli. La prima cosa che vi ha detto Epifani negli spogliatoi? Chiaramente c'era un po' di amarezza perché ci tenevamo a portare a casa il bottino pieno e ci ha detto che comunque la prestazione c'era stata quindi di continuare così che i risultati arriveranno.